Dopo l'assemblea pubblica il Comitato Scuole Sicure non ha ancora avuto risposte agli interrogativi posti all'Aggiunta Comunale di Rieti. Le scuole del capoluogo non sono sicure, agibili solo sulla carta ma profondamente legionate nella realtà. A parlare Tullio Ciogli, portavoce dei tanti genitori che non si fidano di far rientrare i propri figli a scuola. A seguito delle verifiche ispettive di agibilità a Edes aspettiamo di sapere quali siano le condizioni delle scuole all'interno del Comune di Rieti. Questo chiaramente di ogni ordine e grado. Noi vogliamo assolutamente avere certezza, contezza di questa documentazione. Questa documentazione, ricordo a tutti, è una documentazione post-sismica, per cui qualora ci dovesse essere all'interno di questo sciame sismico che interessa il territorio, altri eventi ragguardevoli, noi ricominceremmo di nuovo con tutto l'iter. Gli edifici scolastici riatini sono seriamente vulnerabili, continua Ciogli, e chiediamo innanzitutto le certificazioni di agibilità. Nel frattempo abbiamo diffidato il Comune di Rieti e la provincia di Rieti perché come genitori non ce la sentiamo, non avendo le certificazioni che ci tranquillizzino, di mandare i figli a scuola. Per cui il nostro impegno è quello di tenere chiaramente poi ognuno decidi per sé sotto questo aspetto. Nel frattempo però è calato il silenzio e la giunta comunale, né tanto meno il sindaco, fanno sapere notizie riguardo la riapertura certa di alcune scuole. Il 10 quindi gli studenti sono chiamati a rientrare nelle scuole, ma per quelle scuole disagiate in parte gli studenti dove andranno? Questa è una bellissima domanda, estremamente ragionevole, che tanto per cambiare andrebbe posta agli enti preposti. Noi abbiamo suggerito fin dai giorni immediatamente dopo, già il terremoto del 24 agosto, tutta una serie di alternative che a nostro giudizio andavano indagate perché ricordo in estrema sintesi che il Comitato ha due obiettivi. L'obiettivo della sicurezza innanzitutto, maggiore possibile dei nostri studenti e del personale scolastico e personale ATA e come secondo obiettivo la continuità didattica, per cui noi vogliamo assolutamente che i nostri figli possano rientrare nelle scuole al più presto. È chiaro che se non si creano delle alternative, conclude Ciogli, ci troveremo sempre davanti allo stesso problema, a cui ad oggi non so dare una soluzione. Intanto l'amministrazione comunale di Rieti ha disposto per giovedì 10 novembre l'avvio delle attività didattiche in eseguenti plessi scolastici Giovedì 10 novembre riprenderanno invece le attività anche negli istituti privati, e parificati e nei tre asili nido comunali. Il Comune ha ricevuto inoltre comunicazione dall'amministrazione provinciale di Rieti che giovedì 10 novembre riapriranno anche i seguenti istituti Istituto Alberghiero in via De Salici e in via Salaria, Polo Didattico in via Valmilo Togliatti, Istituto per Geometri e Sabino Universitas in via Angelo e Maria Ricci, Ipsia Manoni in via Lefassini e l'Istituto Formativa della provincia di Rieti e Scuola Alberghiera di Amatrice presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale. L'amministrazione comunale di Rieti comunicherà in seguito le date di riapertura dei restanti plessi scolastici. Infine sarà predisposta una sezione del sito dell'ente riservata alla pubblicazione dei resoconti delle schede Aedes acquisiti ed in corso di acquisizione.